musica 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 un'altra volta mi ha detto dai sposami, sposami, vuoi che mi metto in ginocchio per te, lo faccio e vuoi che mi metto in ginocchio? davanti a tutti ma ho trovato il momento giusto ahahahah spira e stai calmo basta che tu mi guardi musica 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 siamo qui appunto da Badia L'Ariana nella mia palestra dove Paolino che è uno dei miei maestri insieme a Francesco Riotti hanno organizzato questo evento di pugilato per un grande amico che è Calladi, Clay Calladi musica la box è bellissima anche così appunto si parte da qui si parte da una palestra e anche i eventi piccoli bisogna esserci bisogna supportare il pugilato in tutti i casi, in tutte le maniere in tutti i modi perché è da qui ti ripeto che si parte da qui si può arrivare in grade all'MBGM mani al viso, non stare con la guardia bassa ok? ma sai tranquillo il fiato vuole recuperare non so voi che senta il triunfo metti il jab e tieni su le mani non so voi ti ripeto il giro non so voi poi e poi anche il giro 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 3! 3! 3! 3! 3! 4! Vabbè non ti devo valorizzare perché io prima che ho perso. Ho perso i due di fine. Sei andato un po' in dentro il cheat. Ma la fine della seconda mi ha tirato una lega qua. Ora stavo un po' troppo fermo. No, non mi piacerebbe. Eh vabbè. Non ti devo valorizzare. Ma vabbè, ti va avanti più forte. Io sempre, due match sono due scompliti. Sto non siamo qua, quindi dopo poi arrivo. Grazie. Grande. Ciao, ciao, ciao. Buongiorno. 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 Ciao. Buongiorno. 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 Oggi c'è anche i boom boom eh. Ma quasi aspettavoci solo. ero. Come sempre regaliamo. Regaliamo 2, 3 kg. come al solito, ma a noi non ci interessa, facciamo attività che è la cosa migliore e saliamo a far vedere che anche in due categorie sotto facciamo il culo alla gente la mentalità sempre comune, impegniamoci però, non dal primo minuto, che lo studi, il primo minuto, il secondo vai piano piano bravo, 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 bravo sulle mani, sulle mani, con posto, vince bravo, bravo 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 Voi trovare un mobile sul fronte, perché ci vedi. Bravo! Ancora! Vai, vai! Bravo! Così! Tira fuori con più! Vola! Dai, dai! Oh! Così! Eto, viste! Bravo! Vai, vai! Bravissimo! Non ti voglio atacare! È irretta! È irretta! Non ti staggio! È irretta! È irretta! È irretta! Buon passo! Bravo! Bravo! Tira fuori con più! Bravo! 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 Dai, dai! Davllie! Dai, dai! Lavora! Fini del Qtri. Grazie! E lì ci porta fortuna! E la bronca Jacky è finito! Lega, lega, lega! Lega! Non lo siamo fatto! Lega in giro la bocca Jacky! E la bronca Jacky finito la bocca! Jacky finito! Lega, lega, lega! Lega! Vado! Fino! Unito! Unito! Aspettiamo! Sì, è finita! Sì, è finita! Sì, è finita! Esci da lì! Esci da lì! Esci da lì! Esci da lì! Esci! Non scambiare! Vieni! Sulla mano! Porta Giacomo! Vai! Giacomo è finita! Derechi! Derechi d'estisei! Ah Bravo Derechi! Grazie a tutti. 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 però è andato tutto bene. siamo veramente contenti. Grazie a tutti. è finito a tutti. settimana a tutti. a tutti. a tutti.